La città di Roma ha avuto già diversi provvedimenti, salva Roma, alcuni fatti dai governi di centrodestra, altri fatti dai governi di centrosinistra negli ultimi anni, ma la situazione è che la città di Roma ha un debito mostruoso di 8 miliardi di euro, che è di fatto il bilancio di una regione normale, che stiamo pagando noi, come cittadini italiani, non il Comune di Roma, grazie a queste norme, e nonostante questi provvedimenti il Comune di Roma continua a far debito e continua ad avere una spesa che è completamente fuori controllo. Quindi il principale problema dell'amministrazione di Roma è il fatto che ci sia una parte o ci sia l'altra, continua questo sistema di sperpero del denaro pubblico che è assolutamente inconcepibile. Io vengo da una città di provincia, la città di Alessandria, che è stata dichiarata in dissesto per 40 milioni di euro di debiti. Allora capisce che da cittadino, quando so che c'è una città come Roma, che invece ha miliardi di euro di debiti, e che tra l'altro per cui sono stati fatti dei provvedimenti di legge per salvarla e tutto continua come niente fosse, mi arrabbio. Senz'altro Molinari si figuri, se arrabbia lei che vive ad Alessandria, pensi che vive a Roma, ma intendo dire che Alessandria sta dentro Roma una decina di volte, detto alla romana, insomma, voglio dire, è anche questione di dimensioni, presumo. Pensi che se Alessandria avesse avuto gli stessi debiti di Roma saremmo stati veramente di fronte di un caso clinico. Non è possibile che ci sia una città in cui si può continuare ad amministrare male, e ci sono i governi di tutti i colori che in qualche modo intervengono a salvarle, poi ci sono altre amministrazioni per cui di fatto poi le conseguenze le pagano direttamente i cittadini. Questo è un'altra cosa che dà fastidio fuori da Roma, diciamo, ma non è colpa dei cittadini romani, è colpa di chi l'ha amministrata. Guardi!